Dopo otto risultati utili consecutivi, ecco il cappò che nessuno avrebbe mai immaginato. Al partenio il derby del Benevento, l'Avellino è forse troppo presuntuoso in campo, si illude di poter vincere senza problemi. E invece alla mezz'ora della ripresa, Emriani riporta sulla terra una squadra infilata per la seconda volta, quattro minuti dopo, dall'ex colletto. Due gol fortunosi, l'Avellino è al tappeto e non serve a nulla stavolta il gol di evacuo a tempo scaduto.